Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in un video che riguarda la nazionale Questo video non vi chiedo niente, non vi chiedo mi piace, non vi chiedo niente Vi chiedo solamente di guardare questo video fino alla fine Non sarà un po' sportiva d'Italia-Macedonia perché veramente mi sembra una cosa vergognosa Per comandata e penso che tutti direte la stessa cosa, quindi non avrebbe senso Tanto tutti direbbero che abbiamo fatto 30 tiri, cioè 30 tiri fatti malissimo e manca un tiro in porta Mentre loro hanno fatto un tiro in porta e hanno segnato il rincalcio cosa conta, segnare e vincere Quindi non ha senso fare un po' spazzita, lo potevo fare ieri ma lo sapete tutti Porto dal fatto che ho 13 anni, quasi 14 tra un mese e mezzo più o meno E mi sembra a quanto scandaloso che io non abbia visto mai un mondiale I mondiali passati per lo 2010-2014 non seguino manco il calcio E non mi ricordo una ceppa, quindi come se non li avessi visti Vabbè, quello del 2018 lasciamo stare e dovrò vederlo a 18 anni, cioè a 18 anni vedrò il mio primo mondiale Cioè ma mi sembra una cosa normale Cioè io non lo so veramente, ma a parte lasciando questo Io oggi in realtà andrò a parlare un po' più che altro di un sfogo diciamo Un po' del calcio italiano, mancini Anche se vabbè non vi dico niente, giocatori eccetera Non parlerò della partita Ecco, partendo Allora, prima tematiche che voglio parlare è proprio i mancini Quando vedrete sto video, che non lo so in realtà quando lo vedrete Non so se i mancini si sarà dimesso oppure sarà ancora la guida dell'Italia Parto dal fatto che secondo me i mancini andrà via Si dimetterà, secondo me sono più che convinto Perché è una televisione talmente grande E soprattutto uno come i mancini non ce lo vedo per niente bene ancora Diciamo, cioè lui secondo me vuole andarsene via Io non so se lo farei andare via Oppure se farle stare È un'idea molto confusa Da una parte mi dico facciamolo restare Da una parte mi dico cacciatelo Sinceramente, allora Se arrivasse un allenatore esordiente No Cioè a sto punto fari restare i mancini Però se arrivasse tipo un allenatore secondo me Tipo alla Ragnieri Se arrivasse un allenatore Mancini potrebbe anche andare via In realtà se proprio dove vi dico Io lo terrei i mancini Perché comunque Ci ha dato un gioco E ci ha fatto Un Mincio Un europeo A quando Quando è stato? A luglio Nel 2021 E non è una cosa che non scorderò mai Un ricordo bellissimo Una vita Della mia vita Forse il più bello di tutti Però Da questa sconfitta È stata colpa di tutti Non solo di uno Perché i giocatori in campo sono undici C'è un allenatore Ci sono le persone Sinceramente Mancini Secondo me Ha tante colpe Per la partita di ieri Ma in generale Della qualificazione mondiale Mi sembra veramente assurdo Già andare Ai playoff Già quello assurdo Però dico Andiamo ai playoff Comunque C'è nel senso Se non siamo troppo sfortunati Magari ci becca una squadra abbordabile Anche se non bisogna mai sottovalutare nessuno Oppure passiamo C'è Però è già uno scandalo Arrivare ai playoff Soprattutto una nazionale come la nostra Adesso mi vado a parlare un attimo Del calcio italiano Che deve essere assolutamente rifondato Perché Come diceva Fabio Caressa E condivido il suo pensiero Dice che Questa è la peggior sconfitta del calcio italiano E sono d'accordissimo E perché è molto peggio la Svezia? Per due motivi Primo La Svezia era un avversario Quasi alla pari secondo me Dell'Italia Di un paio di anni fa Poi Secondo Avevamo una pippa in panchina Quindi avevamo ventura Con tutto rispetto Terza questione La Svezia italiana Quattro anni fa C'avevo dei giocatori Che se Insomma Me li dicono alla radio Mi metto a spaccare due televisioni Quindi c'è Ciao Giusto per dire C'è un gabbiadini Candreva Parolo C'è Ma mi sembra normale C'è con tutto il rispetto Per questi calciatori Che il gabbiadini Comunque un buon giocatore Anche Candreva Ma C'è Lega Io veramente Sono scioccato Perché non mi aspettavo Che L'Italia andasse fuori Nel mondiale Pensavo di passare Soprattutto dopo la Sconfitta Della Juventus Con il Villarreal E poi parto anche Dal fatto che L'Italia È una nazione Una nazione Diciamo È una nazionale Molto Come si dice Molto Cioè Deve essere sempre rispettata Deve essere un gruppo E non Veramente Non ci permette Di andare Due volte Due Fuori dal mondiale Contro la Svezia Lo posso capire Contro la Svezia C'ero restato male Anche se Di quella partita In realtà Me la ricordo bene Molto bene Entrambe le partite Me ne ricordo Molto bene Perché comunque Avevo 9-10 anni Quindi comunque Qualcosa mi ricordavo Però dicevo Cioè Lo capivo Poi nel 2014 Non me lo ricordo Nel 2010 Lasciamo stare Cioè Raga Questo è un fallimento Per tutti Cioè Io spero che veramente Dopo La disfatta Di ieri sera Tutti i calciatori Ma tutti A parte magari Vabbè Chiesa Quelli che hanno fatto La storia E quelli che non hanno fatto Cavolate Si mettono A chiedere scusa Ma tutti Cioè Tutti quelli che stanno Che hanno fatto male Voglio le scuse subito Di Mancini Voglio le scuse di Ehm Di Giorginio Voglio le scuse Di Barella Anche se È giustificabile Voglio le scuse Di Immobile Voglio le scuse Dei calciatori In poche parole In poche parole Dei calciatori Poi vabbè Ehm Diciamo che Sto vedendo un po' Su Instagram E anche su Twitter Ad esempio Ehm Diciamo Post contro Zagnò Già no Che sto a dire Contro Scamo Eh sì Ma oh Sono scema Sono scema Sono scema Pure io Ehm Comunque Appunto Berardi Immobile E Che cavolo Si chiama È Berardi Immobile E Giorginio Allora E anche Marcini Allora Porta il fatto Che Ci sta Essere Contro Ehm Un giocatore Dopo quello Che è successo Però C'è C'è un limite Cioè Tu puoi anche Non lo so Dire Cioè Criticarlo Anche seriamente Cioè Se ieri mi avessero detto Berardi ha fatto Una partita brutta Vi dico Sì Però Berardi ci ha provato Berardi si è mangiato Un gol clamoroso Ma ci ha provato Ma rimane il fatto Che È un giocatore Non da nazionale Magari È molto Inferiore a Chiesa Io penso Che con Chiesa Questa è una partita La avremmo Persa comunque Perché Per quanto Chiesa Magari Quel gol Non se lo fosse mai mangiato Cioè Tu Senza Chiesa O con Chiesa Devi passare per la Macedonia Cioè Non ci sono scuse Eppure Lo sai cosa Cioè Questa era la formazione Titolare Cioè Titolare La Macedonia Vale Un giocatore Dell'Italia Cioè Ieri ad esempio Cioè Parlate tanto Di Calabria Ma ieri Che partite ha fatto Florentino Cioè Sono un suo grande Stimatore Ma Florentino Ieri ha fatto Una partita Bella Cioè Non ha mai fatto Sbagli E ci credo Che non spigna Florenzi Un giocatore Che Fa il suo Cioè Non sarà Roberto Candos Ma Avete visto Che chiusura Ha fatto Su un giocatore Ieri Ieri Poi Tutto il cuore Tutto il cuore Se ne vada Nesta nazionale Perché Insigne È un giocatore Che guarda Guarda Veramente odio Fino all'infinità E spero se ne vada Cioè Spero proprio Se ne vada Dalla Nazionale Spero che non ci tornerà Mai più Cioè ma guardate Raspadori ieri Cioè Poi Gli Storfer Ha fissato Un preso Per Raspadori Dice 30 milioni Per Raspadori Ma Regà Cioè Di Zaner Si parla Di 50 60 70 milioni Ma Raspadori Ieri Ha fatto una partita Bellissima Ha entrato Ha sfondato Poi Regà Nella mia testa Ieri Lo sapevo Cioè Mano a mano Che La partita Andava avanti Ero convinto Che l'Italia Fosse uscita Perché conosco Troppo bene In calcio Però Facciamo due differenze Chi ha Fatto più schifo Tra Juventus E Italia Allora Partendo al fatto Che è un paragone A cui È difficile Però Partendo al fatto Che la Juve Secondo me In quella partita È stata Sfortunata Perché Aveva mezza scuola fuori A differenza Ed Italia Una scuola Come il V Real Che non è una scuola Scarsa A differenza Da Macedonia Con tutto il rispetto E ha Un episodio Che è andato tutto Però la Juventus Ha delle colpe In quella partita lì In questa invece L'Italia è stata Cioè Ve lo dico Ma è stata Rincoglionita Qua è stata Rincoglionita Sul serio Qua è stata Rincoglionita Perché non puoi Non puoi Spagliare due calci di rigore Non puoi Periggere con la Buglia Non puoi Periggere con L'Islanda del Nord Non puoi Perdere con la Macedonia E con questo Chiedo il video Che non puoi Che non puoi Periggere con la Un'islanda del Nord